Da venerdì a domenica prossima i campi in terra rossa del tennis club Pistoia di Via delle Olimpiadi ospitano le finali del campionato italiano Over 35, un'ennesima prova della valida organizzazione che la società del presidente Luigi Brunetti riesce a mettere in campo in caso di eventi di rilievo nazionale. In passato i campi Enea Cotti avevano ospitato le finali del torneo Under 18 squadre. A contendersi la finale prevista domenica e quindi lo scudetto di categoria, la Junior Tennis Perugia, il Tennis Club Garden Roma, il Tennis Club Castellazzo fra i favoriti alla vittoria finale e il Club Tennis Gioia 1974. Gli incontri, tre per giornata, prevedono due singolari e un doppio. Un torneo in fase nazionale tra le migliori classificate appunto dell'Over 35 proprio a livello nazionale. Che campionato è questo dell'Over 35 a livello di qualità? Dunque è veterano, è considerato un campionato di veterani però questa è la categoria più forte quindi sono ovviamente giocatori di un ottimo livello nazionale. Sabato ancora giornata di eliminatori e domenica già forse in tarda mattinata la finale che decreterà la squadra campione d'Italia.